Non vale la pena parlare perché poi uno si se rende malato, perché tante cose ho visto qua non mi rende sicuro. Ho voglia di vivere ancora. Franco della Cecca e altri residenti sono preoccupati per la situazione in cui versa via 4 novembre a Fano, nel tratto che va dal semaforo di via della Bazzia fino alla rotatoria di via Sandro Pertini nell'Interquartieri. Infatti questa strada è piuttosto stretta, non ci sono divieti di sosta né piste ciclabili. Qui ci hanno raccontato, se un'auto si trova a superare una bici è costretta ad invadere la corsia di marcia opposta, ad aggravare la situazione e il transito di veicoli provenienti da via 28 settembre e via 11 febbraio. Voglio dire anche che prima di tutto vi ringrazio per l'opportunità che ci date di trine evidenza le criticità di questa strada. Le criticità sono che c'è il traffico veicolare nei due sensi di marcia, la strada non è larga e naturalmente questo è un pericolo per le biciclette e per i pedoni. Noi auspichiamo che cosa? La realizzazione di una pista ciclabile che sia in continuità con quella che va in direzione mare, delimitata da cordoli che diano la sicurezza più possibile alle bici e ai pedoni. Questo è quello che noi chiediamo. Via 4 novembre fino all'Interquartieri? Fino all'Interquartieri manca un pezzettino oltre, quindi io ho scritto nella mail che ho mandato alla Fabiola Tonelli, all'assessore, fino a via Togliatti, zona Flaminio, sarebbe l'ideale. La ciclabile, ha poi aggiunto Roberto Cenci, incentiverebbe molte persone ad utilizzare la bicicletta, riducendo l'inquinamento e aumentando di conseguenza la mobilità sostenibile. Anche lei, Roberto, percorre spesso questa strada? Come la valuta? Non spesso, abbastanza frequentemente, perché ho gli amici qua, avevo mia figlia che abitava in una traversa di via 4 novembre e quindi quando passavo qui, io poi sono un amante della bicicletta, quando passavo qui, vista anche l'età, insomma non mi sentivo tanto sicuro. Da dove viene? Io abito al Pincio, abito in centro, quindi per me la bicicletta, la macchina sta in garage e la serve solo quando devo fare un viaggio o andare a fare la spesa, queste cose qua. Poi avendo avuto esperienze all'estero, non perché gli altri paesi siano migliori dell'Italia, però ho visto in Francia, in Svizzera, in Austria, dove vado spesso, che le piste ciclabili sono una cosa importante, seria e la gente va tranquilla. Anche lei abita qui? Attualmente abito qui dalle mie figlie, perché l'appartamento non è il mio. Come valuta questa situazione? Lei si è trovato in pericolo alcune volte? Io alcune volte, ho sempre una paura matta di passare questo tratto qui, perché è pericoloso veramente, la gente non ci fa caso, ma io tutte le volte rischio la vita, guarda quanto passo. Per stare in Italia pago 4.500 euro di tasse sulla mia pensione belga, ha capito? Sono tanti soldi, io vorrei più sicurità, di là cammino sicuro, ma qua proprio non cammino per niente sicuro. Andando su, pura sempre qualcuno mi arriva di dietro, venendo su, quanto piove è un disastro. Alfio, qual è l'appello che lancio all'assessore? Sì, quello che vogliamo dire all'assessore Tonelli è di dare priorità a soddisfare l'esigenza dei cittadini fanesi con la realizzazione di tutte quelle piste ciclabili della città, ora mancanti diciamo, piuttosto che magari dare priorità alle grandi opere, quali quella che è la pista ciclabile che unisce Metauriglia con Ponte Sasso e addirittura rifare una pista lato mare di quella che va fino a forse sei ore dalla Gimarra. Oltretutto illuminata, non so per chi, e lì ritengo anche lì, c'è uno spreco enorme, perché anziché illuminare la pista, quando è buio bisognerebbe chiuderla, non ci deve andare nessuno, la pista va utilizzata di giorno e basta, noi chiediamo quindi la massima attenzione ai cittadini fanesi e quindi realizzare sia la pista qui in via 4 Novembre, in tutte le altre parti della città, dove è necessario.